E' nato 01 o adesso 75? Nato 01 E' quel c***o che lo mette a fuoco Vuoi anche come va sul trepiede? Si vede bene? Questo è nato 01 Adesso 1 però, vero? Si Adesso andiamo via dai Si Adesso andiamo Non lo vedo Ecco da Non lo vedo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.